Allora, quarta notte di prove, stasera è toccato per voi di Porta Crucifera appunto a salire per primi sulla lizza, come sta andando queste prove in vista della giostra? Ho iniziato con tutti e due i cavalli, provandoli così per avere un attimino reso conto per vedere quasi all'ultimo della settimana con quale correre, ora vediamo un attimino ora uno sceglie. Gli allenamenti come sono andati a campo di prove? Erano questi i cavalli che uno ha lavorato a casa e poi questi qui li ho portati in piazza per vedere un attimino di esercizio come uno di questi due. Come stanno rispondendo? No, per ora, dai, nel contesto alla fine, qua tanto il giorno della giostra è un'altra cosa, quella confusione, la gente, tante cose. Abbiamo visto scatenati anche stasera, insomma, diversi colpi. No, ma è che ora come ora sono diventati tutti bravi, quindi salino tutto l'anno e quindi è sempre una lotta tutti l'anno. L'augurio ovviamente è quello di dare il massimo poi? Sì, tutti, tutti danno il massimo per cercare di... a volte viene bene, a volte male, quindi è importante che ci metta dell'impegno, poi dopo uno vince, gli altri perdono, però bisogna farne in dramma. La giostra è sempre più affiatata, anche stasera, insomma, abbiamo visto una bella intesa in questa quarta notte di prove. Come stanno procedendo e soprattutto qual è l'umore in vista della giostra? L'umore... abbiamo cercato di tenerlo sempre tranquillo, sempre basso, anche se a volte c'è quello, perché è anche bello questo. Ti fa se vinto l'anno scorso, ma il giorno dopo sono già dimenticati giustamente perché le vogliono vincere. E quindi siamo sempre consapevoli che questo c'è un impazza per vincere. Gli altri si sono andati da fare tantissimo, vanno tutti bene, però io e Ale cerchiamo di fare le prove, alla fine anche un po' divertendosi, anche un po' rilassati, non sempre adesso, come questo è il tipo di una gara, per poi avvicinarsi alla gara, è meglio. Ecco, che cosa ne pensi dopo, insomma, la quarta notte che scendete tutti e quattro i quartieri, in piazza, come ti sembrano anche i colleghi, quali sono le sensazioni? Le sensazioni, devo dire, come sempre, sono tanto grande in testa. Porta del Foro, grazie al rapporto di Daniela di Cori, ha fatto un bellissimo salto di qualità, le prove, veramente, si stanno andando veramente forti. Santa e Spiro, ugualmente, lì è molto bravo, anche se sono giovani, ma bravi. Ormai chi entra in piazza adesso, ha fatto anni di chavetta, dai, come sempre, c'è possibilità per tutti. Gli allenamenti invece precedenti a queste prove in piazza, come sono andati? Abbiamo visto anche il ritorno dall'America, diciamo così, di una presenza d'eccezione. Cioè, sono un pazzo, sì, io, poi con lui ci vediamo tutte le sue primarie, ci alleniamo insieme, ormai ho un programma che sto seguendo con lui, tutti i miei cavalli li gestisco alla stessa maniera e mi ci trovo molto bene. E ovviamente l'obiettivo di domenica è quello di spaccare tutto, giusto? Sì, quella di spaccare, magari, però insomma, di portare a casa la lancia, quello è sicuro. Grazie.